Allora, a me dice che siamo live, carichiamo la pagina. Perfetto, lo dico anch'io. Un attimino. Sì, ci siamo. Possiamo partire? Eccoci qua, sì sì. Buon pomeriggio, sono Laura Tagliaferri, sono la responsabile dell'informa Giovani Multitasking del Comune di Bologna. Con la diretta di oggi siamo al nostro secondo appuntamento che abbiamo intitolato Bando alle Ciance, del ciclo di incontri Banchi di Prova, in live streaming sulla nostra pagina Facebook. Banchi di Prova è un ciclo di dieci incontri, ne abbiamo già realizzato uno lo scorso 7 aprile, oggi siamo al secondo, sono incontri e laboratori informativi e formativi dedicati allo sviluppo di nuove competenze e conoscenze per i giovani. Il percorso è rivolto a tutti quei ragazzi che abbiano voglia di aumentare, accrescere i loro interessi e le proprie attitudini professionali, che siano interessati allo sviluppo di progetti, magari incentrati sulla propria autoimprenditorialità. Abbiamo cominciato, come dicevo, lo scorso 7 aprile con un incontro dedicato alle partite IVA, è stato molto interessante, corato dalla commercialista Alessandra Sciarrino. Dopo questo avremo altri tre incontri fino a giugno e dopo la pausa estiva ne avremo altri cinque tra settembre e novembre, speriamo che siano incontri dove ci si può incontrare veramente, fisicamente, perché saranno più attività pratiche e laboratoriali. Tutto questo è possibile grazie a un bando che il Comune di Bologna, in particolare il nostro ufficio, pubblica ogni anno, è un bando di coprogettazione aperto all'associazione e alle realtà del territorio che realizzano, svolgono attività a favore dei giovani e questo permette al nostro ufficio e all'informa ai giovani di realizzare nuovi servizi o potenziare quelli che abbiamo già, sempre insomma con uno sguardo attento alle esigenze dei giovani in particolare under 35, questo è soprattutto il nostro target. Quindi questo è un frutto di una collaborazione e coprogettazione intensa con alcune associazioni, tra cui Emilio Doc, Scambio Europei, ACLI e IG Bologna. Quindi voglio ringraziare Mianu Cattenaro e Cecilia Brugnoli di Emilio Doc che hanno realizzato questo bel programma, che magari Mianu poi ci illustrerà meglio. Ringrazio in particolare la nostra ospite di oggi, che è Sandra Caddeo, che è una progettista esperta in fundraising e che ci darà sicuramente indicazioni interessanti per quanto riguarda la lettura di bandi europei, la stesura di progetti e anche per trovare agevolazioni e finanziamenti per poter realizzare la nostra idea progettuale. Ma prima di dare la parola a Sandra abbiamo con noi Stefano Campanari dell'Associazione Scambio Europei che collabora con l'Informa Giovani grazie alla realizzazione di uno sportello molto gettonato che si chiama Finestra sul mondo ed è uno sportello di consulenza sulla mobilità internazionale che adesso, come tanti altri nostri servizi sportelli, funziona online. Grazie Stefano. Seguo con voi la diretta perché sono molto interessata all'argomento di oggi. Grazie a te Laura, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti ragazzi. Sono Stefano Campanari e rappresento appunto l'Associazione Scambio Europei che è un'organizzazione che ha base operativa su Bologna e che si occupa di mobilità per i giovani. Quindi fondamentalmente la nostra mission è quella di aiutare i ragazzi che vogliono vivere un'esperienza all'estero a trovare un progetto, uno scambio, un volontariato o qualsiasi tipo di esperienza che appunto permetta alla persona di partire e di vivere un'esperienza fuori dai confini nazionali. Lo facciamo attraverso la nostra pagina web che si chiama scambioeuropei.info dove pubblichiamo quotidianamente tutta una serie di opportunità di mobilità dal lavoro allo stage, dal volontariato agli scambi culturali, come dicevo ma lo facciamo anche attraverso una serie di incontri che realizziamo in questo caso all'Informa Giovani del Comune di Bologna dove abbiamo una collaborazione attiva ormai da tre anni su uno sportello che si chiama Finestra sul Mondo. Come funziona? Allora, andando nel sito di Flash Giovani sulla destra troverete proprio un riferimento a questo sportello che si chiama Finestra sul Mondo in cui troverete una serie di orari e di giorni della settimana disponibili che si chiama Finestra sul Mondo. Sentite Stefano? Mi sa che c'è un attimo l'audio. Io l'ho perso. Sì, un secondo. Aspetta, aschiamo. Bello della diretta. Siete, prenotare per avere una consulenza personalizzata. Stefano, aspetta un secondo. Siete, prenotare per avere una consulenza personalizzata. che vi potrebbero interessare. Mi sentite? Eh, ci abbiamo sentito a pezzetti. Forse devi riprovarvi a parlare. Stefano? I problemi tecnici. Vabbè, aspetta, riproviamo un attimino. Ci senti tu? Sa che si è bloccato di nuovo tutto. Magari possiamo aggiungere poi tra i commenti le specifiche per lo sportello online. Sì, 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 sì. Aspetta che riprovo un attimo. Lo tolgo, lo rinserisco. Infatti, gli è caduta la connessione. Allora, attendiamo un attimino. Comunque sì, ci stava dando diversi riferimenti per prendere appuntamento per lo sportello. e che si trova tutto su flashgiovani.it. Attendiamo un attimo Stefano, così magari ci racconta anche altre iniziative interessanti che sta facendo insieme a Scambio Europeo. Vediamo un secondo se riprende. Allora, attendiamo un attimo. La, aspetta. Sto aspettando. Mi scrivo un attimo. Sì. Ah sì, ci scrivono anche se che si sentiva male. Infatti sì. Giustamente. Comunque, i riferimenti che diceva anche tu, Mia, sono su flashgiovani.it o sul sito si trovano le informazioni. Sì, esatto. C'è la sezione I nostri sportelli di Flash Giovani, dove ci sono elencati tutti i servizi e anche questo qua di Scambio Europeo, che è a finestra sul mondo. Esatto. Con tutte le vai il calendario degli appuntamenti. Attendiamo ancora un attimino. Sì. Allora. Se no, non so se vogliamo provare ad andare avanti intanto con Sandra e poi dopo aggiungiamo alla fine. Sì, possiamo riprendere anche dopo, sì. Va bene, allora. Allora, parto io? Sì, esatto. Prego, adesso abbiamo Sandra Caldeo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io mi pento, mi chiamo Sandra Caldeo. ho acquisito negli ultimi anni una discreta esperienza sia nella scrittura che nella rendicazione dei bandi partendo da quelli comunali, regionali, nazionali e europei. La mia avventura è partita proprio con Scambio Europei, perché è il primo master che ho fatto all'inizio del settennato 2014-2020, è stata con l'offerta formativa di Scambio Europei, il master in europrogettazione. è un'immersione totale di una settimana dove si svisce l'europrogettazione da tutti i punti di vista. Questa è stata la mia partenza. Dopodiché ho, in contemporanea, che cosa ho fatto? Mi sono candidata a vari... Sento del rumore di fondo. Continuano ad andare avanti io? Sì, sì, noi ci sentiamo. Sì, sì, perfetto. Allora, ho iniziato a candidarmi al portale europeo Salto, mi sono iscritta e in questo modo sono riuscita a partecipare a degli incontri dove normalmente alcuni sono riservati soli ai giovani, ma dato che molti giovani non si candidano, sono stata inserita anch'io, fortunosamente, dove ci si ritrova tra almeno cinque partecipanti per sette paesi europei e con un tema, il primo che ho frequentato è stato nuove opportunità di lavoro per i giovani, nuove piattaforme. In questo modo si riesce a entrare in contatto con i modi di progettare e di pensare che sono presenti in altri paesi. In questo primo incontro, poi, è una settimana intera che si passa a stretto contatto, dalla mattina alla sera fino alla notte, inframmezzato da varie attività. C'erano paesi come la Polonia, la Germania, l'Austria, contatti che continuo a tenere ancora adesso dopo sette anni. Allora, con tutti questi corsi e questi formatori, questi trainer europei, si riesce a uscire da un po' il proprio orticello e iniziare a pensare a progettare in maniera più intenzionale. Questo è molto importante. Io poi ho continuato queste esperienze, queste esperienze di formazione. Anche adesso mi sono iscritta al gruppo di Civic Wise, che è un gruppo di architetti che opera in tutta Europa, dove ci si scambia buone prassi. Quasi tutti gli anni partecipo alla Global Jam, quel format dove in tutto il mondo in contemporanea si progetta su un'istanza, un'idea che viene diffusa in tutto il mondo e poi ci si confronta. Tutte queste idee vengono poi caricate sul web e rimangono a disposizione di tutti. Questo per dire che per progettare e per essere innovativi, per essere sempre creativi e un po' più avanti di quello che viene proposto, bisogna stare sempre con la testa fuori dal finestrino, come in macchina, andare a riuscire a percepire quello che c'è in giro. E questo anche dai nostri colleghi europei, da vari incontri che si possono fare in modo molto economico. Se uno si registra sulla piattaforma Salto, riesce ad avere in base ai propri interessi le notizie di tutti gli incontri e le settimane di training che si possono fare direttamente sulla mail, poi si può candidare o no, però intanto ha questa opportunità. L'Europa ti paga il viaggio, il vitto e l'alloggio, quindi è una soluzione estremamente economica. Però la ricchezza intellettuale che tu acquisisci al ritorno da questa esperienza è impagabile. Durante quei incontri ho imparato a utilizzare il Business Model Canvas, che è esattamente il punto di partenza di quando io mi metto a progettare. Ci sono nove caselline e se ho un progetto che voglio portare avanti, prima cosa lo incasello in queste nove caselline, partendo dalla parte centrale, la proposta di valore, il valore che ha il mio progetto, quello che spingerà qualcuno a partecipare. Quindi io consiglio sempre di farsi questo piccolo specchietto per chiarirsi anche le idee, per vedere esattamente il progetto che si vuole fare, che è un po' di valore a chi, quali sono le attività chiave, quali sono i canali in cui lo potrò distribuire, chi lo resterà o chi sarà interessato a usufruirne, i miei partner possibili, i famosi stakeholder, e tutti i costi che dovrò affrontare, tutti i flussi e tutti i ricavi possibili. Per un progetto finanziato o dalla regione o dal comune, i ricavi poi sono i finanziamenti che riesco ad acquisire, che mi coprono esattamente i costi, perché io lì non vado normalmente, quando un'organizzazione non progetto fa un progetto è solo per dare del valore aggiunto, dare delle proposte di valore alla cittadinanza o al target group, a inficiare oggettini o progetto. Sandra, ti posso chiedere, ad esempio, nella compilazione di uno schema di questo tipo, hai visto, ti è capitato nella tua esperienza, magari di lavorare sempre con diverse fasce di età, magari solo dei giovani che lavoravano tra di loro, oppure magari giovani e persone anche un po' più adulte, o se erano progetti di poche persone, anche differenti gruppi. Secondo te anche l'eterogeneità delle persone che vogliono proporre un progetto è importante? Secondo te anche le idee in questo modo possono fluire meglio? Io veniva a questo punto, perché è lo staff con cui tu poi inizi a lavorare. Allora, per lo staff deve essere un numero non eccessivo, cioè qui parla del progetto, allora, di tutto. Il progetto deve essere una cosa che ti piace, per cui ci credi, ci porti dentro delle emozioni, cioè deve essere una cosa in cui tu ci metti anche della tua personalità, questo si percepisce anche nel momento della scrittura, anche chi lo legge lo percepisce. Dopodiché devi scegliere appunto l'associazione, ma questo quando poi hai il bando a disposizione, oddio è sparito qualcosa, ecco, visualizzi il bando, hai deciso a quale bando di finanziamento partecipare, scegli poi nella tua rete di organizzazioni quella che più si confà e le altre le tieni come partner, come partenariato. Lo staff non deve essere eccessivamente grande, diciamo da tre a sei e perché ci vuole un brainstorming, ci vuole quello che è più esperto semmai di budget, quello che ha più idee creative, quello che tiene le fila della rete dei possibili partner e qui ho messo anche un esercizio che mi hanno fatto fare nelle varie gemme, quello dei sei cappelli. Cioè, se si è in tre o in quattro, quando si fanno gli incontri per iniziare a compilare il business model canvas, si devono, a turno, si indossano questi sei cappelli, dove c'è il neutrale, l'ottimista, quello che è sempre negativo, e si fanno, ognuno a turno, cambia il cappello per sviscerare il progetto, cioè analizzare i punti deboli, i punti di forza da tutti i punti di vista. Se io sono tendenzialmente creativo, ottimista, allora certe volte indossare il cappello nero non mi sforza a vedere alcuni lati negativi, oppure chi è prettamente negativo e vende sempre i problemi, mi farà notare quello che io non riuscivo a vedere, cioè tutti i possibili problemi che avrà il progetto su come l'abbiamo pensato inizialmente. diciamo che inizialmente bisogna lavorare molto sulla progettazione del progetto proprio con questo schema. Questo io l'ho visto svolgersi anche a Parigi, alla Global Jam che ho svolto a Parigi, con un trainer tedesco. Questo funziona molto bene, questo sistema dei cappelli. Ci sono anche dei libri che parlano in teoria di questo schema di progettazione. Dopodiché, andando avanti con le slide, dopo lo staff, ecco, una buona opportunità quando devo scrivere è andare a vedere tutti i progetti che sono già stati realizzati. Io normalmente cosa faccio? Vado non solo sul sito europeo di cui mi ho messo il link, ma anche sui siti nazionali, regionali, delle varie regioni e vado a vedere dei vari bandi chi ha vinto nelle sezioni precedenti e quasi tutti questi progetti hanno una traccia sull'ete. Quindi c'è un loro sito, c'è la disseminazione, ci sono alcuni video, così vedo quello che hanno già fatto gli altri e evitando di copiare pedissurquamente, però faccio mie alcune attività, le declino in un altro modo, in modo innovativo. Comunque cerco di metterci qualcosina in più. Questa è una regola che mi è stata proprio insegnata, ha detto anche un professore universitario, una volta ha detto andate, guardate, leggete e poi metteteci qualcosina in più di vostro, cioè li fate i vostri e aggiungete. E questo anche perché uno va a vedere cosa è stato già fatto. Questa è una consultazione che serve sia per vedere che cosa è già stato fatto, ma anche per trovare i partner. Cioè, perché soprattutto in quelli europei, sì, c'è la piattaforma, ci sono le varie agenzie che ti aiutano a trovare i partner, però la cosa più semplice è andare proprio su progetti affini a quello che voglio farmi finanziare e cercare associazioni che hanno già partecipato e che conoscono già il programma. Perché anche con Nuovo Settennato, dove ci sono sui siti delle agenzie già le nuove priorità, i nuovi obiettivi, non si discostano molto da quelli precedenti. Quindi andare a interloquire o cercare un partner che ha già avuto esperienza del Musplus, per esempio, mi evita di dovergli rispiegare tutto. Cioè, mi trovo già con una persona esperta che conosce già tutta la procedura, le varie sequenze. E questo è un'attività che viene sempre consigliata durante i vari corsi, anche durante gli infodei del Ministero. Una cosa che ho sentito anche dalla commercialista nell'altro incontro è studiare, cioè dedicare una parte della propria giornata, della propria settimana alla formazione continua, partecipando sia a eventi online, a webinar, agli infodei che il Ministero o le varie agenzie promuovono. Io adesso, in questi giorni, sto seguendo gli infodei di Europa per i cittadini e il Ministero manda, il Ministero dei beni culturali fa delle sessioni da due ore in cui poi ti allega l'attestato eventualmente se ti serve, ma anche una raccolta delle slide, non tutte, perché devi stare molto attento a quello che dicono. Sono giornate molto dense, prima si facevano in presenza, adesso si fanno tutto online, ma sono delle opportunità che sono assolutamente indispensabili se uno si vuole mettere a cercare finanziamenti e anche se parlo di Europa per i cittadini servono anche per i progetti giornali, comunali, nazionali. Su questo infatti ti volevo chiedere che ci arrivano due domande, ad esempio ci chiede Marzia Infodei di Europa Creativa che tu sappia in questo momento? In questo momento non ci sono, fino a un anno fa ci sono stati i famosi Infoparty che venivano fatti in giro per l'Italia dove Marzia Santone che adesso è entrata in modo ufficiale al Ministero dei Beni Culturali sulla progettazione europea realizzava proprio queste giornate che erano dalla mattina al pomeriggio dove si parlava esclusivamente di progetti e lei faceva venire a questi Infoparty dei filosofi lì ho conosciuto Bruno Mastroianni quello del il libro mi sfugge adesso comunque lui e Vera Gheno fanno disseminazione su come si scrive alla disputa felice il libro di Bruno Mastroianni poi faceva venire anche tutti quelli che avevano già vinto dei progetti europei tipo per Bologna è venuto il teatro Testoni la baracca che per spiegare come loro si erano approcciati a progetto come si si scrive il progetto e sempre la praticamente il filo è sempre lo stesso essere coinvolti avere crederci e poi stilare una nella scrittura una specie di copione del progetto cioè esattamente tutte le varie fasi bisogna descrivere del progetto comunque più cinematografico uno si fa i tanti post poi li posiziona analizzare i possibili protagonisti del nostro progetto le personas mettersi lì e fare proprio una sequenza giornaliera di che cosa farebbe la persona che aderisce al nostro progetto il pubblico che noi andiamo a cercare dopo di che fare un quadro sinottico dove io metto tutte le varie attività in sequenza alcune possono essere fatte in contemporanea altre hanno una sequenzialità dopodiché io mi metto lì e da lì estraggo il budget tutte le varie attività io metto esattamente i corsi di tutte le varie attività questo è a grandi linee quello che si fa vedo la domanda di Marzia Vallone per quest'anno per quest'anno Europa Creativa non è ancora messi di infodei quelli che stanno cioè il portale di Europa Creativa sta lavorando per i cittadini per quelli i bandi che hanno scadenza il primo settembre 2020 ce ne sono il primo è andato il 7 maggio ci sarà il prossimo bisogna scriversi la newsletter di Europa per i cittadini normalmente loro mettono la registrazione su Eventbrite uno si iscrive e dopo ti vengono mandati i riferimenti per poter accedere alla registrazione non sono in questi giorni sono anche molto utili i webinar che si trovano registrati di produzioni dal basso attiviamo energie positive diciamo che in questi giorni c'è l'imbarazzo della scelta perché se prima uno si doveva muovere in presenza adesso è molto più semplice da un punto di vista ma si avallano anche tutte le attività certo posso chiederti anche magari un consiglio ad esempio se un gruppo di ragazzi decide che vuole realizzare un progetto e appunto cerca dei bandi se questi ragazzi non sono un'associazione ma sono un gruppo informale c'è possibilità per loro o si devono per forza costituire in associazione o in un'altra forma secondo te per poter accedere a dei finanziamenti allora adesso con con la nuova normativa sul terzo settore purtroppo ci sono alcuni bandi che sono proprio finalizzati ad associazioni o associazioni di promozione sociale o libere forme associative che andranno a sparire quando ci sarà il registro unico nazionale a questo punto diciamo che un gruppo di ragazzi si può affidare un'associazione già esistente ce ne sono varie sul territorio se proprio non la vuole costituire se uno ha un'idea penso che non abbia si sia iscritto abbia già partecipato delle attività quindi può proporlo all'associazione con cui ha più rapporti anche perché se tu devi proporre un progetto e vuoi che un comune una regione ti finanzi riuscire a convincere un'associazione con cui tu se mai hai avuto qualche rapporto conosci già il presidente hai partecipato alle attività e se non riesci nemmeno a convincere loro è difficile che tu riesca a convincere una struttura regionale a darti dei finanziamenti una prova del 9 esatto un po' crowdfunding è una cosa visto nell'argomento visto che sono rientrato online con il progetto con l'European Solidarity Corps con i corpi europei di solidarietà che è un programma che è nato da poco che prende dei finanziamenti dall'Unione Europea ma poi è gestito a livello nazionale dalle varie agenzie nazionali c'è un'azione che si chiama progetti di solidarietà che è pensata proprio per i gruppi informali di giovani under 30 in quel caso lì non i finanziamenti sono più piccoli le application sono semplificate non è richiesto quindi l'essere costituiti come associazione ed è però è possibile affiancarsi ad un'associazione che poi può anche monitorare e chiedere del budget extra per fare da coach da mentor a questi ragazzi però i ragazzi anche se non hanno un'associazione possono applicare in maniera autonoma ed è un buon primo diciamo step per chi si vuole cimentare poi nella progettazione che richiederà giustamente come diceva appunto Sandra sicuramente la costituzione in un'associazione sia per raggiungere appunto fondi regionali comunali nazionali ed europei però qualcosina lo stesso vale per gli scambi culturali scambi giovanili che sono anche lì è provvista la possibilità di partecipare anche al gruppo informale di giovani ancora ancora è possibile anche nella prossima deadline di maggio quindi qualche piccola possibilità per chi non ha un'associazione comunque c'è e questi riferimenti tu li possiamo trovare dove da dire così anche ai ragazzi che ci seguono allora i riferimenti allora il primo se si tratta di corpo europeo di solidarietà e progetto di solidarietà magari vi posso mandare un link lo posso farlo lo puoi mettere nei commenti esatto ok lo metto nei commenti allora mentre voi potete anche andare avanti nel frattempo mi cerco un attimino l'informazione e vi mando sia gli scambi culturali che il progetto di solidarietà del corpo europeo di solidarietà ok allora Sandra ti leggo una domanda che è arrivata ok sì allora Jessica ci chiede sto preparando il business plan per un bando che aprirà ad ottobre l'obiettivo è aprire un locale di ristorazione ma non ho ancora individuato la struttura adatta come posso ipotizzare un conto economico senza conoscere effettivi costi legati alla struttura come locazione lavori di strutturazione eccetera come è meglio procedere in termini di stime da presentare per la richiesta di finanziamento allora senza sapere esattamente dove si trova è un po' difficile che a seconda del locale se si trova nel centro storico in periferia ci possono essere dei costi diversi sia di accesso la struttura di occupazione di lavoro pubblico anche per i lavori di ristrutturazione quindi su un progetto così preciso un locale di ristorazione la vedo difficile non sapendo nemmeno dove potrebbe essere il locale e che tipi di lavori ci sono senza dare la planimetria uno potrebbe proporre se mai affidarsi ai bandi che ci sono per riutilizzo di i mobili urbani delle delle amministrazioni che sono inutilizzati e costruire il progetto su uno di questi immobili da rivalorizzare quindi possiamo dire a Jessica che dovrebbe chiedere al comune un elenco di questi immobili per poter fare un progetto mirato sì non c'è solo il comune ci sono anche le associazioni di servizio alla persona che gestiscono moltissimi immobili che prima venivano messi all'asta questo lo fa anche il comune di Bologna ci sono varie fondazioni che lo fanno io all'interno delle slide ho messo anche un sito dove ci sono tutte le fondazioni sia bancarie che privati che private che possono che offrono bandi di finanziamento aiuti ce ne sono anche alcune che sono senza scadenza per cui puoi presentare la domanda di finanziamento durante l'anno senza bisogno di aderire a una scadenza quindi sì però bisogna cioè un business plan deve essere una cosa seria e una planimetria una un'individuazione l'individuazione di un locale ci vuole perché se no non ha senso anche non si può fare un preventivo su far fare un preventivo da un da un'azienda da una impresa su un'ipotesi che non poggia su dei dati reali certo questo invece per l'altra domanda che era arrivata forse rispondi andando avanti con la presentazione comunque te lo leggo così magari poi puoi fare un focus dopo Carmen che dice che lei vive a New York e fa un po' di fatica a seguire la diretta quindi magari ecco potrai rivederla sia su YouTube che salvata qui su Facebook comunque dice la mia domanda è da dove si trovano i bandi e quali sono i focus su cui puntare quando bisogna compilare il format ok allora io ho inserito sulle varie agenzie quelli europei sulle varie agenzie ho inserito nelle slide se vai ai siti a consultare sul comune di Bologna partendo dai comunali i bandi regionali c'è proprio un sito dove ci sono i bandi sia sportivi sia i FESR i fondi europei strutturali sia i GAL che sono quelli che normalmente si occupano di rivalorizzare le comunità montane alcune zone anche del territorio per cui ci si può anche affidare a questi anche per le produzioni audiovisive perché quando io parlo di promozione del territorio posso anche proporre un documentario un prodotto audiovisivo che mi racconti il territorio e che diffuso disseminato far venire voglia a tanti di visitare quell'area questa è una nuova cioè normalmente nei bandi anche culturali la valorizzazione del territorio e anche in quelli nazionali si pesa molto infatti non a caso il ministero dei beni culturali del turismo sono attaccati quando c'è stato quel momento in cui avevano staccato il turismo inserito il turismo all'interno del ministero dell'agricoltura era stato detto dai responsabili dei beni culturali del ministero anche i bandi del settore agricoltura perché li dovete dovete sempre valorizzare la cultura del territorio e la sua cultura quindi adesso è rientrato tutto all'interno dello stesso ministero quindi siamo avvantaggiati quindi ci sono vari siti io lì ho inserito anche tutte le fondazioni le fondazioni di filantropia istituzionale ce ne sono anche a livello internazionale qui ho messo solo quelle italiane però basta che uno vada a fare una ricerca su google e trova anche tutte le varie fondazioni internazionali c'era una volta per un progetto scientifico abbiamo partecipato anche alla fondazione Rothschild che normalmente si googola grant si scrive in inglese il grant le parole chiave che possono servire saltano e poi escono fuori tutte le varie possibilità che ci sono all'estero diciamo che all'estero è più semplice perché uno non è che deve scrivere tutto tutta la proposta in modo dettagliatissimo loro fanno le selezioni in due step prima crei un labbozzo della tua proposta poi dopo in base alla prima selezione dopo ti chiedono di scriverla in modo molto più approfondito quindi diciamo che è molto più svella e al momento della scrittura iniziale è anche meno dispendiosa di risorse diventa molto più semplice in questo caso però normalmente l'iter è quello tenere monitorati il comune la regione le varie e poi se uno ha già un'idea che vuole fare un progetto di tipo sportivo va a controllare anche tutti i siti europei che finanziano lo sport una cosa che consiglio che mi è stata assiliata a suo tempo è di unire le priorità e gli obiettivi cioè se ti chiedono di fare un progetto sul turismo andare semmai a controllare anche se c'è un progetto se è stato se c'è una priorità sulla disabilità e unire le due azioni cioè scrivere il progetto sul turismo focalizzato su anche un altro un'altra priorità europea può essere disabilità può essere sì bisogna leggerli bisogna rimanere sempre in al contatto con quello che c'è e tenersi sempre informati quindi questo è fondamentale certo quindi comunque sicuramente da quello che dici tu uno degli aspetti fondamentali è che i progetti proposti non siano diciamo tra virgolette autoreferenziali ma siano utili sia da diversi punti di vista e anche dal modo in cui si sviluppano però devono essere utili in qualche modo alla collettività quindi si devono per forza come dici tu accostare più attività insieme in modo che magari appunto se si presentano degli artisti dei creativi non dicano solo realizzo una mostra ma realizzo magari qualcosa che abbia un significato più profondo e magari informi su una situazione particolare in una parte del mondo oppure non so adesso sto ipotizzando però immagino che tu intenda questo ma anche una mostra una mostra ha sempre un l'obiettivo di diffondere culturalmente un'idea un artista uno scienziato quindi questo è fondamentale poi un tra aspetta cos'altro ti allora come dicevi prima dei documentari degli audiovisivi che anche quelli appunto sono progetti esatto una cosa che viene sempre detto è che Europa Creativa finanzia principalmente dei progetti gli Erasmus Europa per i cittadini però quello che c'è sempre stato detto ai famosi Info Party all'Info Day di Europa Creativa è che l'audiovisivo diventa ancillare in quei tipi di progetti non è principale ma è l'elemento fondamentale per la disseminazione quindi tu non puoi costruire un progetto di sull'Eramus principalmente produco un documentario che fa vedere la situazione dei giovani così però se tu ti focalizzi su l'argomento che avresti messo nel documentario e organizzi anche degli scambi di buone pratiche degli incontri con dei partner europei su delle attività di di diffusione del progetto sul pubblico che normalmente rimane sempre escluso che questo è un altro tema forte dell'Europa riuscire ad andare a coinvolgere quelli che normalmente non si fanno coinvolgere quelli che normalmente rimangono esclusi allora se tu focalizzi un progetto su questa cosa io voglio dare fornire questa opportunità culturale a queste persone che normalmente non partecipano e poi costruisci la disseminazione o lo racconti attraverso un documentario che ti serve come disseminazione metterai sul sito così a quel punto anche l'audiovisivo diventa elegibile in quel progetto la funzione diventa tutto il percorso di disseminazione del tuo progetto certo per cui esatto io volevo anche adesso perché per scrivere per progettare esistono anche dei testi un testo adesso non so se si vede bene un testo che qui sono alla scrittura qui allora ve lo leggo è scrivere idee di Gaia Peruzzi è un della Fausto Lupetti editore progettazione comunicazione innovazione il sottotitolo ed è un testo che è proprio per eh riuscire ad aiutare eh gli enti del terzo settore questo è scrivere idee ed è si ed è proprio ed è è un colo è un piccolo libricino fondamentale però per riuscire a darsi eh delle regole per poter progettare comunica e comunica innovazione un'altra cosa che è molto importante è ehm esistono degli studi che sono stati fatti su leggermente del pubblico questi studi sono stati finanziati dalla commissione europea e si trovano sul sito della fondazione Fitzcarraldo Fitzcarraldo ha curato proprio un progetto e ci sono le pubblicazioni proprio sul sito quindi conviene andare anche a vedere i progetti precedenti andare anche a eh leggere i documenti che sono stati prodotti dato che sono stati prodotti proprio con i finanziamenti europei sono a disposizione di tutta la comunità una cosa che gli italiani sono un po' gelosi proprio modo di progettare questo non succede con gli inglesi con i francesi con i polacchi quindi un'altra cosa è andare a eh verificare quello che c'è sui siti degli altri paesi perché loro condividono molto eh come progettare fanno vedere addirittura delle session di progettazione e eh un altro consiglio è leggere perdere tanto tempo leggere molto bene il bando leggerlo più di una volta lì sei cappelli servono perché bisogna mettersi a leggerlo cambiarsi i cappelli e eh trovare tutti i pro e i contro tutte le problematiche che ci sono ecco perde non è perdere tempo rileggere più volte il bando è fondamentale soprattutto su quelli europei si consiglia di leggerli in inglese perché alcune volte le traduzioni non sono proprio fedeli fedeli quindi fa fede eh il bando in lingua inglese consiglio di leggerlo direttamente in lingua inglese e poi le agenzie anche per Europa creativa eh sono estremamente tutti i diputti delle agenzie sono estremamente disponibili si può chiamarli e chiedere qualsiasi consiglio problema se uno non ha i partner può chiedere anche i partner alle varie agenzie cioè facendo presente quali sono i focus principali del proprio progetto riesce anche a metterli a chiederli direttamente ai responsabili delle agenzie chiedere degli appuntamenti telefonici su salto invece si trovano tutti i progetti in corso quindi una cosa che consiglio quando una associazione andarsi a inserire dentro salto e andare a vedere tutti le altre associazioni che stanno cercando partner perché c'è un mondo lì sopra e uno si può anche registrare come disponibile a diventare partner diciamo che il primo step è partecipare perché alcuni bandi sono estremamente impegnativi quindi partire subito con un bando un Erasmus Plus da 24 mesi un K2 una chiave 2 da soli con sia partecipanti e formatori per formare dei trainer così diventa piuttosto impegnativo quindi però uno si può sempre proporre come partner anche proporsi anche ad agenzie bolognesi parliamo di Bologna che partecipano a questi bandi ce ne sono tante c'è il teatro Testoni c'è il Cassero che ha partecipato con Gender Bender poi con un altro progetto sulla danza Cantieri Metici ce ne sono tante di associazioni con cui uno può iniziare a fare del volontariato per iniziare a capire e metterci le mani in pasta diciamo iniziare a partecipare direttamente anche come volontario infatti sì ce ne sono molte e volevo chiederti secondo te i giovani che magari sono interessati a questo tipo di progetti che magari ti è capitato anche di conoscere e hanno poi deciso di diventare ad esempio a loro volta progettisti no magari se tu volessi dare un consiglio a qualcuno che magari è ancora uno studente però si sta interessando piano piano a questi argomenti e capisce magari nel tempo di voler diventare un progettista tu cosa gli consiglieresti? assolutamente di iscriversi a salto di mettere le di inserire tra le attività principali quelle che sono proprio le sue passioni e non avere paura e buttarsi ad andare adesso non si può i viaggi sono interrotti stanno facendo tutte attività online quindi da un certo punto di vista è anche più semplice però una volta che sbloccheranno tutto perché prima o poi si ritornerà alla vita normale buttarsi ed andare frequentare tutti quelli che ti interessano di più tutti quegli incontri che ti coinvolgono di più perché ti assicuro io sono iscritta e mi arrivano tre proposte alla settimana cioè è facilissimo andare se uno potrebbe stare via quasi una settimana tutti i mesi e ti assicuro che la cosa di cui si lamentano tutti è che ci sono dall'Italia no dagli altri paesi più ma dall'Italia c'è poca poca spinta ho partecipato io a un evento europeo in cui davano un'uipata io l'ho preso che avevo già 50 anni quindi il mio figlio è rimasto scioccato perché ha detto non è possibile però all'ultimo mi hanno detto abbiamo bisogno di quattro partecipanti due femmini non abbiamo nessun altro vieni tu perché anche a quelli per i giovani se non ci sono richieste poi prendono anche quelli un po' più avanti con l'età quindi la cosa sconvolgente è che ci sono pochi giovani dall'Italia che si buttano perché alcuni di questi hanno proprio i paesi che devono essere i ragazzi che devono venire principalmente da un paese cioè dei partecipanti da un paese in alcuni tutti i paesi europei in altri non ci siamo sempre noi italiani ma dove ci sono c'è la richiesta dei partecipanti italiani che accadrà cioè non sempre ci sono certo magari su questo anche Stefano ci può dire ci può dire qualcosa tu che esperienza stai avendo con i giovani che si interessano allora cioè io aggiungerei questo ad esempio per i giovani che si interessano al mondo della progettazione ci sono al di là giustamente dei vari training delle varie mobilità anche di breve periodo che si trovano su salto su altri canali per cui comunque serve sempre comunque un'associazione di riferimento una forza di organizzazione di invio italiana che faccia da tramite però oltre a queste esperienze diciamo così di breve durata ci sono anche esperienze come dicevo prima ad esempio i corpi europei di solidarietà hanno varie sottuazioni oltre a quella che dicevo prima che è valida anche per i gruppi informali ci sono anche le esperienze di volontariato lunghe che durano 3, 4, 5, 6 mesi fino ad un anno in cui in molti casi comunque si cerca dei profili di giovani interessati anche a fare la coprogettazione o la progettazione europea perché sono progetti che ti fanno andare in una realtà su un NGO in un'associazione in una fondazione in un paese europeo in cui si faranno tante cose ma si farà sicuramente anche della progettazione europea nazionale regionale quindi è un ottimo strumento anche quello per tra l'altro combinare due aspetti ovvero l'esperienza della mobilità quindi vivere e stare un periodo all'estero e imparare anche ad approcciarsi alla progettazione ai primi bandi farlo tramite un progetto di volontariato europeo di corpo europeo di solidarietà è lungo per chi invece non vuole andare all'estero e vuole restare in Italia ed approcciarsi anche in Italia ad esempio su Bologna visto che siamo su Bologna sia la nostra realtà scambio europei ma anche UNET tante altre realtà del territorio ospitano anche dei tirocini curriculari quindi anche noi ad esempio abbiamo una convenzione con l'università di Bologna e i ragazzi che fanno un corso di studi che magari è in qualche modo affine a quello della progettazione e vogliono spendere la loro esperienza di tirocino curriculare facendo progettazione lo possono fare e ricevere in cambio appunto i crediti formativi che appunto gli verranno convalidati in quanto c'è una collaborazione tra la nostra realtà e quella dell'università di Bologna ma non siamo gli unici a farlo ci sono anche altre realtà quindi anche quello è un ottimo modo per approcciarsi per un ragazzo che sta ancora studiando che però allo stesso tempo vorrebbe magari cominciare a fare della pratica non di mettere sporcarsi le mani quindi queste sono altre due possibilità sia in Italia che all'estero qui c'è un'altra domanda mi aggiungo perché magari ecco vediamo su Federico ci chiedeva prima l'abbiamo saltata risorso guide per creare un'associazione quale forma associativa è più adatta per bandi culturali locali regionali o europei o europei allora diciamo molti bandi sia comunali che regionali sono o per enti del terzo settore associazioni di promozione sociale o associazioni sportive dilettantistiche ASD o organizzazioni di volontariato o DV queste tre sigle fanno tutte parte del terzo settore quindi per un basso comunale regionale nazionale queste tipologie vanno benissimo normalmente normalmente però bisogna anche controllare quello che è scritto nello statuto per i bandi europei è fondamentale quello che è scritto nello statuto la prima cosa che fanno quando tu candidi un progetto a un bando europeo vanno a controllare che l'associazione capofila o anche i partner abbiano nello statuto quelle attività principali quindi bisogna stare molto attenti quando scegli il capofila ad avere nello statuto la coerenza con le attività che proponi anche sui bandi regionali ma diciamo non fanno differenze una volta che una è un'associazione di promozione sociale non è che tieniano perché nello statuto semmai quella principale attività non era proprio segnalata il problema è perché quasi tutti hanno la disseminazione culturale la promozione culturale e cose del genere il problema infatti l'agenzia di Europa creativa quando abbiamo dovuto modificare lo statuto perché adesso con la nuova normativa sul terzo settore tutti noi delle associazioni di promozione sociale dobbiamo proprio mettere nel nome associazione di APS sono adesso sul sito della regione se si vanno a vedere gli atti del dirigente ci sono proprio tutti i nuovi statuti le nuove associazioni che stanno mandando tutti i nuovi l'adeguamento alle nuove normative aspetta mi sono perso un attimo allora rispetto alla domanda che ci facevano su come aspetta te la ripropongo qua dice ci sono delle linee da seguire perché è un'associazione più adatta a seconda dei bandi allora per l'italia a seconda di come di come si si come della propria struttura uno sceglie la secondo la legge la nuova legge su un terzo settore la la figura che più gli si confà o APS associazione di promozione sociale o associazione sport dilettantistica SD o organizzazione di volontariato o DV l'importanza dello statuto è principalmente per i bandi europei sia strutturali che diretti ci sono i centri servizi di volontariato qui a Bologna c'è centro servizi volabo quello che si occupa anche dell'università del volontariato che danno consulenza gratuita su tutte le normative sia su la scrittura dello statuto sui metodi di fatturazione senza senza l'obbligo dell'IVA ci sono varie possibilità senza dover ricorrere a dei professionisti da pagare all'inizio per cui uno può sempre rivolgersi a questi centri che danno consulenza gratuita anche lo sportello di cui si parlava anche nell'appuntamento dell'altra volta dei commercialisti si può confrontare anche con questi argomenti delle associazioni sì perché anche hanno dei commercialisti a seconda della natura del tuo quesito se è di tipo amministrativo fiscale ti fissano l'appuntamento e tu hai un'ora un'ora e mezza a disposizione e poi puoi consultarli nuovamente è un servizio che viene fornito gratuitamente quindi puoi anche chiedere in fase di scrittura di statuto e di registrazione le entrate che cosa è meglio fare per te uno va lì si va anche in due e si chiede in base all'attività cosa conviene fare quindi loro ti danno tutta l'assistenza possibile te la danno gratuitamente ok conferbo aggiungo anche che per chi poi non si ritrovasse né in ODV né in APS tantomeno nella parte sportiva c'è anche la via dell'ETS che è una via più generica ovvero diventare proprio un ente nel terzo settore senza andare a dare una specifica che è fondamentalmente il cappello il tetto che sotto il quale si potranno riparare tutte le varie associazioni culturali diciamo che prima c'era una varietà di associazioni molto molto più ampe allora si stringe che si stringeranno molto e tutti quelli che non saranno né promozione sociale né di volontariato o strettamente di volontariato potranno diventare genericamente ente del terzo settore comunque come diceva giustamente Sandra Volavo ha un e tutti i servizi di volontariato a Bologna appunto Volavo fanno un servizio davvero insumiabile e hanno grande appunto esperienza da mettere a disposizione a chi volesse appunto intraprendere questo percorso che con la riforma del terzo settore è un pochino complesso e in più c'è lo sportello dei commercialisti che sono due comunque possono essere utilizzati anche parallelamente uno magari più in ambito fiscale un altro un ambito anche un po' più tecnico proprio sulla riforma del terzo settore che ha tanti dettagli e tanti aspetti che vanno valutati appunto in maniera imprecisa quindi avete tutti gli strumenti sì ci scrivono dei commenti ci iscrive Sara salvia a tutti sapete di qualche canale dove è possibile trovare un volontariato legato alla progettazione che forse ne ho trovato alcuni legati all'estero ma non sono conoscenti di simili portali in Italia forse ne stavi parlando prima tu Stefano di questo sì allora ci sono bisogna iscriversi al portale dell'European Solidarity Corps quindi se l'ho googolato proprio così European Solidarity Corps entrate in un portale in cui bisogna fare una registrazione quindi c'è un bottoncino dove c'è scritto join accedete vi registrate create un vostro profilo una volta creato il vostro profilo avrete accesso a tutte le call delle varie organizzazioni delle varie hosting organization che hanno delle call attive per ospitare dei volontari è un progetto di volontariato attenzione quindi non è un lavoro né tantomeno uno stage però c'è una copertura totale delle spese sia di viaggio che poi durante il periodo del volontariato la copertura dell'alloggio del vitto e del cibo insomma è un pocket money mensile quindi l'idea è che tutti possano partecipare a prescindere dalle proprie possibilità economiche e la ricerca delle call e delle varie hosting può essere fatta anche filtrando per argomento e quindi ce ne sono molti che appunto si occupa si richiedono anche dei profili di volontari che vorranno appunto approcciarsi alla alla progettazione altrimenti oltre in parallelo a questa ricerca che potete fare direttamente nel portale dell'Orippinian Solidarity Corps vi potete anche appoggiare a delle organizzazioni di invio italiane che magari hanno già dei partenariati attivi e in molti casi possono aiutarvi a cercare a trovare il progetto che fa il caso vostro su noi con la nostra associazione Scambio Europei all'interno della nostra pagina abbiamo una categoria proprio di volontariato europeo dove ci sono le calle attive anche lì le tematiche sono varie ce ne sono anche alcune appunto che riguardano la progettazione un consiglio che posso dare è che il centro servizi Volabò tutti gli anni propone l'università del volontariato molte persone che ho poi incontrato successivamente hanno iniziato da lì dall'università volontariato ci sono vari corsi dove ti insegnano anche a gestire gli eventuali conflitti all'interno delle associazioni è molto utile perché questo è anche un servizio completamente gratuito quindi chi vuole approcciarsi all'inizio senza investire risorse economiche può provare con l'università del volontariato secondo ok poi ho letto una domanda sul crowdfunding allora il crowdfunding è un'impresa un po' difficile difficile perché esistono varie piattaforme però anche se tu ti affidi una piattaforma sei tu che devi dedicarti al tuo progetto è molto complicato perché quando si parte bisogna stare concentrati e dedicarsi anima e corpo è un'avventura che uno può intraprendere ci sono vari tipi di crowdfunding io adesso consiglio i libri che ha scritto Ivana Pais della Bocconi ogni tanto è venuta qui a Bologna a fare dei contri alla CNA e lei ha sempre descritto in modo molto preciso e puntuale tutte le varie tipologie di crowdfunding e un consiglio che do quando uno si vuole lanciare perché non esiste una ricetta alcuni hanno ricevuto dei buonissimi risultati ma non sanno nemmeno loro perché ci sono troppe variabili al contorno e uno non le può progettare cioè tenere tutte sotto controllo quindi sarebbe provare con i parenti se la mamma e il papà e la zia quelli che ti vogliono più bene di tutti non ti darebbero nemmeno non ti finanzerebbero la tua idea vuol dire che devi rivedere qualcosa prima di lanciarsi su un portale perché è un'enorme fatica quindi il crowdfunding va progettato bene bisogna avere già un piano editoriale di promozione pubblicità di ufficio stampa di un mese prima di partire cioè esattamente tutta la scadenza di tutti gli interventi da fare essere pro con dei volantini accattivanti quindi aver lavorato sulla grafica e poi sì provare prima con parenti e amici se lì non riesci a convincere nessuno bisogna che ti rimetti a lavorare prima di partire sì infatti era stato nelle risposte che erano state date il se non sbaglio il 12 maggio ci sarà proprio uno di questi appuntamenti sarà dedicato proprio a questo quindi se avete delle domande anche più specifiche magari ci sarà un form da compilare quindi in modo tale che così cercheremo di insomma fare lavorare delle risposte puntuali e precise sui gruppi di media a questo argomento almeno sì sì esatto infatti nel prossimo incontro avremo proprio tre piattaforme di crowdfunding avremo Ginger avremo produzione dal basso e anche di crowd che ci racconteranno un po' come può funzionare o come magari a volte non può funzionare insomma dipende anche dal tipo di progetto e come dicevi tu probabilmente anche dall'impegno che uno ci mette giornalmente per fare funzionare tutta la la campagna insomma infatti non so se tu puoi andare avanti nel frattempo vediamo se ci sono delle altre domande consiglio di scriverle in chat così poi possiamo riproportele un'altra cosa che mi è successa inaspettatamente scrivendo un progetto allora mantenersi collegati a quello che è la realtà il progetto uno dei primi che ho scritto no non proprio dei primi quello di maggior successo è stato avevo una cartella ho descritto tutto il progetto in una cartella pochissimo essenzialissimo e però l'idea è innovativa e quando l'ho scritto mi ero collegata all'incontro che c'era stato al teatro comunale con Martin Scorsese cioè avevo proprio raccontato quella giornata gli input che mi erano venuti da quell'incontro e ovviamente era una cosa completamente diversa era come insegnare i bambini a fare il cinema di Lego però sono partita da lì nel spiegare il mio progetto questo è piaciuto tantissimo e ha avuto un riscontro al di là di tutte le più rose e provisioni quindi un consiglio che mi sento di dire è come ho detto prima avere passione per il proprio progetto quando lo si scrive metterci sempre qualcosa di personale e anche non scostarsi dalla realtà contemporanea ma anche quello che può essere stato un incontro o quello che stiamo vivendo adesso non essere troppo essere anche spontanei questo paga questo aiuta molto allora arriva una domanda non so se tu Sandra le vedi comunque te la rigiro io te la rivolgo io se le scuole possono contribuire i progetti alcune scuole sì soprattutto i fondi europei strutturali adesso proprio in questi giorni ieri è scaduto un progetto che è stato messo fuori il 17 di marzo che dava la possibilità alle scuole di acquistare dei dei portatili per gli studenti che non hanno disponibilità in questi giorni ne stanno uscendo tantissimi soprattutto sui fondi europei strutturali quelli distribuiti dalle regioni e dal comune su le imprese le piccole e medie imprese sull'ICT ci sono ce ne sono e ce ne sono alcuni dove possono partecipare sulle scuole infatti anche ce n'è uno la cultura attiva la scuola la scuola attiva la cultura del ministero dei beni culturali e del MIUR che sono dedicati solo alle scuole dove le associazioni partecipano solo come partner e su quali si possono trovare allora questi sono sul sito del ministero dei beni culturali e del MIUR normalmente scuola attiva la cultura ce n'è uno che scade abitualmente a luglio quindi si possono trovare i bandi degli anni precedenti rimangono praticamente molto simili quindi uno va controlla i bandi degli anni precedenti e puoi iniziare a scriverlo finché non esce il bando quest'anno anche con Erasmus possono fare un sacco di cose le scuole possono fare le K2 possono fare i VET possono fare tante azioni pensate alcune pensate esclusivamente per il mondo delle scuole quindi ci sono anche lì tante opportunità e quelli dove si trovano per andare per dare un riferimento dove cercarli l'Erasmus Plus sempre sul sito Eacea lo trovi lì e dove trovi tutti gli altri bandi del settore culturale esatto o sul sito dell'Agenzia Nazionale Giovani per quelli gestiti dall'Agenzia Italiana ci sono le K2 istruzioni che sono gestite direttamente da Roma e quelle si trovano sul sito dell'ANG l'Agenzia Nazionale Giovani se avete altre domande potete potete iscriverci comunque poi allora una cosa se uno ha un po' di tempo sono molto utili tutti gli interventi istituzionali e non che aveva fatto nella assemblea legislativa nella sezione europea come europarlamentare l'onorevole Silvia Costa io normalmente queste le trovo su Radio Radicale digito Silvia Costa e lei che si è battuta per aumentare incrementare anche i fondi su Europa Creativa e sulla cultura se uno li trova online sono molto interessanti cioè si è tutta un'integrazione di informazioni che serve anche quando si scrivono i progetti certo ok per adesso non ci sono arrivati altri commenti no? direi che insomma al fuoco ce ne direi di no sì no non c'è non c'è non c'è Laura tu vuoi aggiungere qualcosa? no più che altro a parte che l'ho trovato veramente molto interessante ci sono tantissimi spunti anche dai link insomma che abbiamo elencato insomma poi dopo uno può andare ad approfondire e insomma informarsi leggere curiosare come diceva la nostra la nostra ospite bisogna soprattutto leggere studiare e insomma approfondire un po' dappertutto io non lo so approfitterei di qualche minuto per dare la possibilità anche a Stefano di illustrare un po' quello che ci siamo persi all'inizio perché non avevamo la possibilità di sentirti visto che abbiamo ancora una manciata di minuti a disposizione Stefano sì esatto no stavo effettivamente stavo presentando lo sportello di finestra sul mondo che l'associazione Scambio Europei in collaborazione con le informe giovani di Bologna realizza proprio nella serie degli informe giovani Bologna lo sportello è pensato per dare assistenza per aiutare per e per incoraggiare insomma i giovani che vogliono vivere un'esperienza all'estero che può essere a 360 gradi quindi di qualsiasi tipologia volontariato piuttosto che lavoro uno scambio culturale e queste opportunità diciamo che i ragazzi che sono interessati a vivere un'opportunità del genere possono prenotare un appuntamento siamo attivi lo sportello attivo due giovedì al mese gli orari li trovate nel sito di flashgiovani.it nella parte nello sportello nella parte dedicata allo sportello finestra sul mondo poi magari ora vi mandiamo il link live su facebook e quindi è possibile prenotare un appuntamento a tu per tu in cui nella prenotazione vi verrà chiesto qual è il motivo appunto della vostra della vostra richiesta che cosa vorreste andare a fare e una persona della nostra associazione cercherà di supportarvi nella realizzazione appunto di questa vostra di questa vostra esperienza all'estero che sia di una tipologia piuttosto che di un'altra quindi è uno sportello fatto pensato ad hoc per i ragazzi che vogliono partire vogliono vivere un'esperienza all'estero ma hanno bisogno appunto di trovare magari con l'esperienza che fa al caso loro in questo periodo in cui non è possibile appunto vedersi di persona vedersi vis-à-vis abbiamo lo stiamo procedendo stiamo facendo questo sportello online quindi comunque mandando una mail all'informa giovani precisamente a informa giovani che ho c'è esatto comune.bologna.it è possibile comunque prenotare un appuntamento vista la situazione diciamo che abbiamo anche deciso di sforare quelle che sono le date che erano previste inizialmente nella che trovate nella tabellina quindi dei due giovedì al mese ma fondamentalmente abbiamo ampliato diciamo la possibilità di avere un supporto a tutti i giorni della settimana tendenzialmente facendolo o tramite skype o tramite telefono insomma poi a seconda delle esigenze di ognuno ci si verrà incontro quindi se avete delle domande se avete appunto delle esigenze su particolare una particolare tipologia di mobilità che vorreste vivere esiste questo appunto questo sportello che fa il caso vostro tutto qua grazie sì grazie mille a Stefano e non sono arrivate altre domande quindi direi che se non abbiamo se non vuoi dire qualcosa altro tu Sandra sì volevo aggiungere una cosa che sul sito dell'Europa c'è ho messo il sito di dell'agenzia Eacea per tutte le news relativi al covid perché stanno cambiando tutte per i bandi che sono già stati emessi che vanno rendi contati stanno cambiando alcune regole questo sta succedendo anche con la regione emiglia che già ho messo il link della determina del mille deroghe dove chi ha già presentato un bando della legge 37 anche i bandi del settore cinema a tutti gli aggiornamenti di come dovranno essere svolte le attività come verrà quali spese sono rese ammissibili come ci si può aggiornare come vengono aggiornati i bandi per il comune il comune per esempio per Bologna l'estate ha messo sul sito che le istruttori le decisioni sono posticipate al 16 maggio aveva prima posticipato al 15 aprile adesso al 16 maggio ho messo un altro riferimento che è il sito del teatro dei 20 perché ha appena vinto un progetto europeo con delle residenze artistiche non so se lo conoscete ma ha fatto uno spettacolo a Modena il Moby Dick di cui è stato fatto anche un documentario ecco azione ancillare cioè nel bando del cinema però tutta la disseminazione e gli audiovisivi fatti per diffondere il progetto possono essere spese ammissibili ottimo abbiamo messo comunque tutti i link che sono stati citati che era Stefano che era Sandra nei commenti quindi potete ritrovarli anche lì direttamente ma visto che abbiamo parlato di progettazione e con questo chiudo approfitto per dire che in questo periodo stiamo organizzando noi anche dei corsi di progettazione specifici per Erasmus Gioventù Azione Chiave 1 Azione Chiave 2 che facciamo tramite Skype in digitale insomma condividerò ora il tempo di copiare incollare i link su Facebook ve li condivido subito se qualcuno è interessato abbiamo anche delle nuove date disponibili sono la prima settimana di maggio quindi è tra l'altro sono tutti gratuiti no Stefano sì allora abbiamo sia dei webinar e delle prime opportunità gratuite sia degli approfondimenti dove chiediamo anche un piccolo contributo che però durano 3, 4, 5, 6 lezioni diversi moduli quindi a seconda poi delle esigenze di ognuno della voglia e volontà di approfondire si potrà scegliere una cosa piuttosto che un'altra perfetto bene e se allora noi possiamo trovare quindi comunque la registrazione no? su Facebook e anche le potremmo avere anche i materiali no? di Sandra giusto? sì esatto successivamente metteremo il video sarà sempre disponibile sulla pagina quindi basterà cercare nella sezione video della pagina Facebook di Flash Giovani se ritrovano tutti i video questo stesso video verrà poi caricato anche sul canale YouTube di Flash Giovani alla playlist banchi di prova e sul sito di Flash Giovani nella stessa pagina dell'evento metteremo le slide che ci siederà Sandra e metteremo a questo punto anche per aiutare un po' gli utenti che ci seguono metteremo anche tutti i riferimenti che abbiamo messo adesso sui commenti così avremo una lista bella ordinata dei riferimenti dati sia da Sandra che da Stefano perfetto ok e ok io vi ringrazio tutti grazie mille per per le vostre le vostre insomma le informazioni utili che ci avete dato grazie davvero grazie a voi ci vediamo al prossimo incontro giusto? il prossimo incontro è il 12 maggio e approfondiremo meglio la tematica del crowdfunding perché avremo con noi Produzioni dal Basso Ginger e Biclaudi che sono tre piattaforme che si occupano proprio di crowdfunding e questo il 12 maggio sempre alle 5 su la pagina Facebook di Flash Giovani grazie Sandra grazie Stefano grazie grazie ciao grazie a tutti ciao ciao buona serata grazie ciao ciao